E se cercate l'aggiunta perfetta al vostro F1, beh ragazzi, si tratta della D3T, la pietra diamantata per affilare. Vi ricordate la DC4? Era una pietra combinata da una parte ceramica, dall'altra aveva appunto la superficie diamantata. Ora, la D3T è più piccola, sempre di Folkneven, sul retro ha un adesivo e direte perché, ma chiaramente per fare questa cosa qui. Per incollarla sul fodero e una volta sistemata sul fodero potete usare tutto il fodero sul coltello. Una roba, ora mi taglio, una roba del genere, ok? Questo è comodo perché la pietra guadagna in questo modo un'impugnatura comodissima e controllabile e sta lì, non dà fastidio e in pratica la usate solo quando vi serve. D3T di Folkneven è disponibile insieme alla DC4 per prendervi cura del vostro F1.